Dopo tanto tempo siamo ritornati in Calabria, per certi versi, perché abbiamo fatto un po' di esperienze fuori ed è stato un piacere ritornare qui con questa mostra che parla un po' di ciò che deve essere l'arte dal punto di vista dell'interazione e dal punto di vista del lavoro in simbiosi, perché poi è il nostro principio di base. Abbiamo studiato insieme all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e da là il nostro incontro prosegue da dieci anni. Quest'anno, nel 2023, facciamo proprio dieci anni di attività. Abbiamo cominciato un po' così, non voglio dire gioco, ma come una sorta di commissione di due saperi e punti di vista e abbiamo proseguito, dato che comunque ci siamo ritrovati, a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda. È una mostra completamente interattiva che vuole mettere un punto esclamativo su quelle che sono le basi del nostro lavoro e quello che vediamo noi e che vogliamo raccontare dal passato, perché ci sono delle opere che erano un po' più datate, al futuro perché ci sono gli ultimi nostri lavori che vanno ancora su quella lunghezza lì. 021 ha partecipato già nel 2018 alla prima edizione del progetto Sillings. In quell'occasione avevamo lavorato nel Museo archeologico di Monasterace. E così come in quell'occasione, anche in questa mostra Nulla è tangibile, il duo ha realizzato degli interventi set specifici, ovvero degli interventi che dialogano nello specifico con il luogo. In questo caso, ecco che abbiamo in questa mostra, ecco che vediamo gli elementi tipici del loro lavoro, soprattutto il dialogo con la natura, posto in essere con la necessità di interazione con il fruitore. Perciò tutte le opere in mostra sono interattive e quindi richiedono un coinvolgimento diretto. Filosofia della loro mostra è dunque questa necessità di recuperare, di ritrovare un equilibrio cosmico a partire da un contatto vero con il contesto ambientale. La parte, c'è anche una parte ludica, nel senso c'è una parte divertente, uso questo termine, per dire e raccontare che tutte le opere, appunto, essendo interattive, hanno necessità che lo spettatore le metta in funzione a 360 gradi. Ed è anche una caratteristica degli 081, dove quasi la totalità del loro lavoro è interattivo, cioè hanno necessità di prendere vita con lo spettatore. Diventa un'esperienza e ci sono tre luoghi esperienziali, nel senso che abbiamo questo, dove c'è appunto questa seduta, dove una volta che lo spettatore si siede, prende completamente vita l'opera e quindi diventa parte integrante dell'opera. Alla nostra destra abbiamo un'altra installazione, dove praticamente lo spettatore rende vita all'opera, muovendo le luci, giocando con quello che si trova di fronte. E in fondo abbiamo un'altra opera, dove lo spettatore è parte integrante dell'opera, se non ci fosse non si metterebbe in vita. Il fatto che si siano ritrovati in questa mostra i due artisti, che sono uno opera all'Accademia di Catanzare, uno opera all'Accademia di Reggio Calabria, che vengono a Cosenza ad esporre e mettere insieme le parti della Calabria in cui si spera di poter sviluppare l'arte contemporanea. Io sono particolarmente contenta di questa cosa, poi perché vivo questa doppia veste di direttore delle Box Museum e di presidente dell'Accademia di Reggio Calabria, naturalmente con ruoli diversi, ma mi piace che ci sia questa collaborazione. Sono anche molto incuriosita da questi giovani artisti che hanno creato delle opere interattive e questo mi pone un quesito importante, che è quello quanto noi curatori di musei facciamo perché le opere esposte possano coinvolgere veramente il pubblico. Ecco, qui oggi abbiamo avuto un bellissimo esempio di opere che vengono realizzate proprio per creare un'interazione con il pubblico.